La ragazza zittisce tutti Uomini e donne news, Rama Lila incinta, chi è il padre? La ragazza zittisce tutti News uomini e donne, Rama Lila Giustini è incinta, chi è il padre del bambino?. Rama Lila Giustini è stata una corteggiatrice di uomini e donne molto amata dal pubblico. Dal programma di Maria De Filippi era uscita insieme a Jonas Berami, attore dei Il Segreto. Il suo percorso a Canale 5 è stato molto particolare e decisamente diverso rispetto a quello fatto dalle altre ragazze. Simpatia e l'atteggiamento sopra le righe di Rama Lila hanno sempre molto divertito il pubblico che, ancora oggi, continua a manifestare alla ragazza tutto il proprio affetto. . Dopo la fine della storia d'amore con Jonas Rama non è più tornata in tv ma, oggi, continua ad aggiornare i propri fan costantemente tramite i social. . A rendere nota la notizia della sua gravidanza, infatti, è stata la stessa Rama Lila qualche settimana fa su Instagram. L'annuncio della gravidanza è stato accolto con grande entusiasmo dai followers della ragazza e quali, subito, si sono congratulati con lei per la lieta notizia. . Gli auguri sono arrivati anche dal suo ex, Jonas Berami, con cui la Giustini è rimasta in buoni rapporti. . . Uomini e donne news, Rama Lila annuncia la gravidanza e le insistenze degli utenti. . . Dopo i primi messaggi iniziali, però, i seguaci più curiosi di Rama hanno sempre e solo continuato a chiedersi una cosa, chi è il padre del bambino? Tanti i commenti lasciati sotto le foto delle ex corteggiatrici di uomini e donne riportanti questa domanda. . . Al momento, però, nessuna risposta è arrivata da parte della diretta interessata che, sulla questione, ha voluto mantenere il riservo. . . Ha voluto condividere con noi questa bellissima notizia ha scritto un affanei tutti ogni giorno chi è il padre ma basta se ne avrà voglia lo dirà e se sarà ragazza madre lo potrà fare. . 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 Si tratta di Sharon Bergonzi, protagonista indiscussa, insieme a Valentina Rapisarda, del trono di Andrea Cerioli. Come Rama Lila Giustini, anche Sharon Bergonzi non è più tornata in tv dopo l'esperienza fatta al date show di Maria De Filippi. L'anno dopo aver chiuso il capitolo Cerioli, infatti, Sharon si è sposata ed oggi sembra essere molto felice appagata.